Yo Willers, buah a tutti e bentornati sul canale, come sempre qui è il vostro Alas che vi parla, piacere di rivedervi. Siamo qui per l'episodio numero 129 della nostra carriera su Motorsport Manager con Alas Adramson alla guida della 1A1 Racing Team. Round numero 12, GP di Indianapolis 500, il circuito tanto odiato dal nostro Alas Adramson. Proveremo a sfatare il tabù quest'oggi. Ovviamente, se non avete visto l'ultimo episodio, il round numero 11, il GP dell'Ungaro Ring, cliccate in questo momento nell'angolo in alto a destra e recuperatelo prima di dare un'occhiata a questo episodio. Vediamo dalla prima vittoria in carriera alla 1A1 Racing Team per Theo Purcer, ovviamente non in carriera in generale, visto che è un campione del mondo, Theo Purcer ha vinto con Ferrari. Charles Leclerc è comunque sempre in vetta, ma ora deve guardarsi proprio dal compagno di squadra, che è comunque a distanza di sicurezza, a meno 89 punti. Ma 89 punti possono essere rosichiati in men che non si dica, perché ricordiamolo, chi vince si prende 50 punti. Chi si ritira prende comunque punti, considerando che tutti vanno a punti, quindi il massimo che si può prendere vincendo col giro veloce contro uno che arriva ultimo, se non sbaglio, è 41 punti, perché 51 punti per chi vince col giro veloce, 10 punti per l'ultimo classificato. Però, come detto, si può rosichiare praticamente in 2-3 gare questo distacco. Vediamo se riusciremo, come detto, a sfatare il tabù di Indianapolis. Come sempre vi chiedo di lasciare un bel mi piace per supportare la 1A1 Racing Team e di commentare qui sotto con un pronostico per la prossima gara. Il GP di casa per Max Verstappen, un Max Verstappen che in questa stagione non sta facendo così tanto bene, complice anche una Ferrari che non è assolutamente all'altezza. Considerando anche che sono i campioni in carica, ma sono veramente crollati dal punto di vista delle prestazioni, addirittura dietro a Mercedes. Vediamo cosa saremo in grado di fare nel Gran Premio di Zandford. Questa è la configurazione del tracciato, gara prevista sotto la pioggia, questa è la guida per quanto riguarda gli elementi cruciali della vettura. Lasciate qui sotto il vostro commento, il vostro pronostico, ma ora ci concentriamo ovviamente sul Gran Premio di Indianapolis. Prima, naturalmente, visto che dovevamo completare, vi chiedo, se non siete già iscritti, di iscrivervi al canale. E nel caso cliccate anche sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Mi raccomando, per voi è un attimo, un secondo per poter cliccare quei pulsanti. Per me fa una grandissima differenza e vi ringrazio per tutti coloro che decideranno di farlo. Intro anche fin troppo lunga. Proseguiamo, andiamo a scegliere Shell come nostro sponsor. Selezione delle gomme, andiamo come sempre su 10 treni di gomme rosse, giri 52. È molto probabile che la strategia sia su due gomme gialle o su un treno anche di gomme medie. Dovremmo valutare e quindi andiamo comunque su 8 treni di gomme gialle e 2 treni di gomme medie. Entrami entusiasti, montatura componenti già effettuata, scendiamo in pista per il venerdì di prove libere. Ci siamo! Inizia il venerdì di prove libere nell'ovale di Indianapolis. Tio Purcher e Vito Freire, come sempre, le nostre scelte. Andiamo a modificare il setup delle vetture. Gomma rossa per il portoghese, gomma gialla per il francese. Scendiamo in pista per le prove libere, mandiamo in pista. Vito Freire no, con assetto da gara e assetto da gara anche per Tio Purcher. Quindi Tio lo mandiamo in pista, modifichiamo lo stint per quanto riguarda il portoghese e lo mandiamo in pista. Come sempre, noi ci rivediamo direttamente per l'inizio del sabato di qualifiche. Pronti per l'inizio delle qualifiche. Prove libere che sono andate molto bene. Abbiamo sviluppato livello 3, gomme rosse, gomme gialle, gomme bianche e gomme intermedie. Le abbiamo sviluppate sull'asciutto. Non sapevo più cosa sviluppare, allora mi sono divertito a farli scendere in pista con le intermedie. Assetto da qualifiche e assetto da gara, ovviamente. Quindi scendiamo gomma rossa e assetto da qualifiche per entrambi i nostri piloti. Per quanto riguarda il setup, tutto eccellente. Abbiamo raggiunto il 99% con Charles Leclerc e il 98% con Tio Purcher. Proviamo a migliorare leggermente il suo setup. Gomma rossa per entrambi, proseguiamo e prendiamo parte alle nostre qualifiche. Potremmo fare sicuramente più di un giro, ma scendiamo subito in pista. Per fare il nostro primo giro e probabilmente unico cronometrato della sessione. Charles taglia il traguardo con secondo e terzo settore fucsia. Ma sta arrivando Arthur che lo sta battendo. Purcher ha tre decimi da Charles Leclerc. Vediamo Arthur Leclerc che tempo va a siglare. Va in vetta con 97 millesimi di vantaggio. Quindi siamo praticamente tutti lì. Io ho paura delle Mercedes perché sembrano avere il motore più forte, il motore più veloce. Quindi Novalac può essere un grosso problema da affrontare. Ho fatto scendere in pista nuovamente entrambi. Prima Purcher per migliorare il suo setup che è arrivato al 99%. Poi Leclerc, entrambi comunque con gomma usata. Leclerc con la gomma usata ha fatto ultimo settore fucsia e si è preso la vetta di questo Q1. Vediamo chi sono gli eliminati. Torniamo ai box con il pilota Monegasco che sicuramente ha fatto il giro con una pista molto più gommata rispetto ai suoi avversari che hanno fatto il giro in precedenza. Però vediamo la griglia d'arrivo di questo Q1 con Leclerc davanti a Novalac, Arthur Leclerc e Theo Purcher. Eliminati, Yuki Tsunoda, Maximos Xagoraris, Robert Schwarzman, Caio Collè e Christian Lundgaard. Questi gli eliminati appunto. Proseguiamo e prendiamo subito parte al nostro Q2. Scendiamo in pista con il sole. Non c'è possibilità di pioggia in questa gara. Direi di aspettare più o meno metà sessione e scendere in pista con la gomma gialla per effettuare il nostro tentativo. Cinque minuti al termine della sessione. Prendiamo parte a questo Q2 scendendo in pista con la gomma gialla con entrambi. Abbiamo tante gomme gialle quindi possiamo provare anche un secondo tentativo ma credo che possa essere valido anche questo primo tentativo per qualificarci tranquillamente per il Q3. Leclerc va a tagliare il traguardo e si mette in vetta con gomma gialla con Purcher in quarta piazza dietro Novalac e Arthur Leclerc. Questi sembrano gli equilibri. Charles Leclerc leggermente davanti a tutti con un Novalac che è un gran motore e si può giocare un gran podio. E Arthur Leclerc che è sempre lì con Purcher che può giocarsi comunque il podio. Dipenderà tanto dalla strategia. Io direi che siamo in netto vantaggio rispetto alla zona eliminazione quindi non c'è bisogno di scendere nuovamente in pista. Eliminati Rashad Deguerus, Lando Norris, Oscar Piastri, Guanyo Joe e Pierre Gasly. Noi ci qualifichiamo con gomma gialla. Proseguiamo e prendiamo subito parte al Q3. Qui ad Indianapolis direi di scendere subito in pista per fare un giro con gomma rossa. Ne abbiamo a volontà. Possiamo fare anche probabilmente tre tentativi con gomma nuova tranquillamente. Forse anche quattro se ci sbrighiamo. Tagliamo il traguardo con Charles Leclerc che è il primo a terminare il giro e si mette in vetta con un 44,5. Purcher a 7 decimi. Leclerc ha fatto Arthur. Ha fatto il primo settore fucsia. Secondo verde si mette tra i due a 3 decimi e mezzo comunque da Charles Leclerc che sembra essere molto molto veloce. Dobbiamo aspettare però anche Clement Novalak. Vediamo Novalak che va a tagliare il traguardo. Fa primo e secondo settore fucsia. Ha trovato la pista in una condizione molto migliore. Direi di fare solo un altro tentativo perché non so. Se possiamo riuscire... No, Novalak si è messo in seconda. Quasi quasi direi di scendere subito in pista. Proviamo a fare tre tentativi e mandiamo prima in pista Tio Purcher subito a seguire Charles Leclerc. Con Goma Rossa abbiamo un buon vantaggio comunque su Novalak di oltre un decimo che in una pista del genere direi che non è per niente male. Purcher sta migliorando nettamente il suo tempo. Va a tagliare il traguardo a 393 millesimi. Non riesce a battere il tempo di Arthur Leclerc per salire in terza posizione. Quindi Charles Leclerc ancora davanti a Novalak. Arthur e Tio Purcher. Ma noi ora scendiamo in pista. Abbiamo il tempo per fare anche il terzo tentativo di questa sessione. Arthur si sta migliorando. Primo e secondo settore Novalak. Fa il primo settore fucsia. Si è migliorato Arthur Leclerc. Vediamo se Purcher riesce a migliorare ulteriormente per passare il pilota Red Bull. Novalak, attenzione, sta facendo il giro più veloce. Doppio fucsia nel primo e nel secondo settore. Taglia il traguardo e si mette davanti con tre settori fucsia. 64 millesimi di vantaggio nei confronti di Charles Leclerc che deve assolutamente migliorare in quest'ultimo tentativo. Andiamo su buono con il livello di temperatura delle gomme. Ora serve un grandissimo giro da parte del nostro Charles. Charles verde nel primo settore. 170 millesimi è tanto. È tanto. 218 non si sta migliorando e non si sta migliorando neanche Tio Purcher. Quindi mi sa che dobbiamo accontentarci. Secondo Charles Leclerc. Quarto Tio Purcher. Colui con il motore migliore ha fatto la pole position. Gran giro da parte di Clement Novalak. Questa è la griglia. Novalak, Charles Leclerc, Arthur Leclerc, Tio Purcher. Poi Tictum, Lawson, Verstappen, Russell, Hertha e Maloney. De Gerus, Norris, Piastri, Zou, Gasly. Su, Noda, Xagorari, Schwarzman, Colle e Christian Lundgaard. Proseguiamo e scendiamo in pista per la partenza della gara sull'ovale. Dobbiamo sfatare un tabù. Gomme morbide e assetto da gara, ovviamente, per i nostri due piloti. Perché partiamo con quelle gomme e cercheremo di fare una sola sosta. Per quanto possibile, anche se qua è possibile sorpassare. Quindi anche le due soste può essere una scelta non male. Andiamo a modificare il setup delle vetture. Dovremmo mettere 26 giri di carburante, che non è poco. Quindi 28, diciamo 28 giri. Potremmo partire un po' lentamente con questo quantitativo di carburante rispetto a tutti gli altri. Ma puntiamo al lungo termine. Strategia dei piloti, ovviamente, andiamo, direi, di andare. Stile di guida, attacco per scaldare subito bene le gomme e modalità motore alta. Proseguiamo e iniziamo la nostra gara. Prima fila per Charles Leclerc. Seconda per Tio Purcher. Subito dietro al compagno di squadra. Cinque luci che si spengono in questo istante. Parte bene Charles. Meglio di Clement Novalak. Buonissimo lo scatto di Charles Leclerc che si mette subito in vetta. E andiamo di modalità motore alta. Purtroppo Tio Purcher invece è partito malissimo e scende subito in settima posizione. E viene subito attaccato anche da Russell all'esterno. Perde tante posizioni. Tante posizioni perse da Tio Purcher. Peccato. Si difende solo da Maloney. Ma Charles Leclerc è fortunatamente partito fortissimo. E viene seguito da Tictum con Novalak passato anche dal pilota Ferrari che è partenza da parte di Dan Tictum. Vediamo ora se riusciamo a mantenere questa posizione con Charles Leclerc. Tictum giro veloce. Ora Guan Yuzhou giro veloce. Caio Collè giro veloce. Allo scatto in partenza. Purcher è riuscito subito a riprendersi la settima posizione. A recuperare qualche posizione. Prova l'attacco nei confronti di Max Verstappen. Andiamo in modalità motore alta. Qui dovremo essere in grado di riuscire ad attaccare con il pilota francese. Dobbiamo solo stare attenti al consumo delle gomme. Perché sarà fondamentale riuscire a gestire la gomma. Novalak si è preso la posizione nei confronti di Tictum. E ora andrà all'inseguimento di Charles Leclerc. Novalak primo settore fucsia. Attenzione perché è velocissimo il pilota della Mercedes. Noi dobbiamo giocare sul lungo periodo. È stata fondamentale per questa la partenza. Di Charles Leclerc che per ora riesce a tenere dietro il pilota Mercedes. La lotta probabilmente per la vittoria sarà tra loro due. Ma Novalak è velocissimo. Il suo sorpasso avverrà molto molto a breve presuppongo. Tio Purcher sta cercandola dietro di rimontare. Ma non riesce ad avvicinarsi. Novalak fa il giro veloce in 46 e 1. È nettamente più veloce in pista. Ma noi con questa gomma gialla più lo teniamo dietro. Più ci facciamo un favore alla nostra gara. Quindi cerchiamo di tenerlo dietro per quanto possibile. Attenzione ora all'attacco. Attenzione all'attacco ora. Proviamo a spingere per difenderci. Andiamo in modalità risparmio perché le gomme si scaldano molto facilmente. Io non so come facciano loro a gestirle. E come potrà riuscire a difendersi Leclerc per tutta la gara così da Clement Novalak. Questa è la grande occasione per Mercedes per una vittoria con il pilota francese. Ma per ora Charles Leclerc si difende. Attenzione perché arriva anche Tictum. Attenzione perché si sta riunendo il pacchetto. Leclerc ha perso la posizione. La perde anche da Tictum. E arriva anche Arthur Leclerc. Disastro. E anche Lawson. Improvvisamente da quando abbiamo messo... Ci siamo messi in gestione della gomma. Sono arrivati tutti. Siamo scesi in terza. Attenzione perché ora Novalak rischia di scappare. Tictum a 7 decimi. Dobbiamo cercare di spingere per quanto possibile. E questa è una gomma veramente disastrosa. Monteremo probabilmente la gomma media. Avremmo dovuto scegliere la gomma media. Perché forse è l'unica gomma che riesce a tenere bene la temperatura. Ora Leclerc sta andando all'attacco nei confronti di Dan Tictum. Sta provando ad attaccare ma no. Andiamo a gestire la temperatura della gomma. Dobbiamo giocare sul lungo periodo. Leclerc passa a Tictum. Si è fermato Novalak per il suo pit stop. Vediamo che gomma va a montare il pilota della Mercedes. Monta gomma gialla. Noi andremo molto lunghi. Andremo molto lunghi con questa gomma. E monteremo poi gomma bianca per cercare di arrivare fino in fondo. Speriamo soltanto che Novalak perda un po' di tempo nel traffico. Anche se qui è difficile perdere tempo proprio perché è facile comunque sorpassare. Clement Novalak ha perso una miriade di tempo nel traffico. È a 35 secondi da Charles Leclerc. Stiamo continuando a guadagnare. E Tio Purcerra è salito in seconda posizione grazie ai pit stop. Quindi qui più si va lunghi più si riesce a guadagnare nei confronti di tutti gli altri. Leclerc in questo momento effettuato il pit stop dovrebbe comunque uscire davanti ad Oscar Piastri. Noi stiamo gestendo in sostegno addirittura la temperatura della nostra gomma perché questa gomma gialla veramente si scalda tantissimo. Teoricamente abbiamo ancora 12 giri di carburante da poter effettuare in pista e stiamo spingendo in alta. Quindi possiamo ancora gestire il nostro vantaggio. Novalak ha 37 secondi da Leclerc. Quindi abbiamo naturalmente un pit stop di vantaggio. E teoricamente anche Tio Purcerra. I box sono molto lunghi ma Tio Purcerra ha 31 secondi di vantaggio. Ora è Novalak che sta cominciando a guadagnare ma Tictum si è messo davanti a Clement Novalak. Quindi tra di loro stanno lottando e perderanno veramente tanto tanto tempo. Ora possiamo andare in modalità neutrale sulla gomma. Continuiamo a spingere in alta sul carburante. Intorno direi al ventiduesimo giro cominceremo a valutare la possibilità di fermarci per effettuare il nostro pit stop. E ricordiamolo monteremo gomma bianca che è una gomma che riusciamo a gestire molto molto meglio. In questo momento Charles Leclerc ha un vantaggio di 11 secondi nei confronti di Tio Purcerra di 34,3. E continuo ad aumentare il vantaggio nei confronti di Tictum nonostante Tictum abbia pista libera. Quindi Leclerc sta facendo un passo incredibile. Purcerra probabilmente finirà comunque nel gruppo tra Tictum, Leclerc e Novalak. In generale dovrebbe comunque aver guadagnato da questo pit stop ritardato. Sto cercando di arrivare all'incirca al ventiquattresimo giro. Leclerc farà questo più un altro giro. E poi si fermerà per il suo pit stop. Potremmo anche pensare di farli fermare insieme. Cercare appunto di allungare per quanto possibile per avere una gomma bianca più viva possibile al termine della nostra gara. Quindi Charles Leclerc va ora ad iniziare il suo ventiquattresimo giro. Così come per quanto riguarda Tio Purcerra ci fermiamo alla fine di questo giro per effettuare il nostro pit stop su gomma bianca. L'unica gomma bianca che ci è rimasta. Abbiamo da caricare all'incirca ventisei anche più. Trenta giri di carburante diciamo. Di modo da averne da poter consumare. E pit stop bilanciato per Tio Purcerra. Idem per Charles Leclerc. Gomma bianca e pit stop per caricare. Trenta giri di carburante. Strategia del pit stop bilanciato anche per lui. Quindi ci fermiamo con entrambi. Andiamo in attacco sulle gomme per quest'ultimo giro. Andiamo anche ad accelerare 28 giri di gara da dover effettuare da parte dei nostri piloti. Con la gomma bianca dovremmo essere tranquillamente in grado di farlo. Si ferma Charles Leclerc per il suo pit stop. Vediamo in che posizione andrà a rientrare. Rientra anche Tio Purcerra. Pit stop senza problemi per Charles Leclerc che dovrebbe rientrare in prima posizione. Pit stop per Tio Purcerra che vediamo in che posizione rientra. Dovrebbe rientrare all'incirca in sesta, settima posizione. No, quinta posizione. Andiamo a rallentare. Charles Leclerc tranquillamente in prima posizione e andiamo in alta per lui. Scusate, stavo confondendo i due. Tio Purcerra è entrato in sesta davanti a Max Verstappen. Tutti gli altri troveranno a effettuare almeno un pit stop. Purcerra a 12 secondi e mezzo dal compagno di squadra e a 5 secondi di ritardo da Lawson. Quindi perlomeno abbiamo pista libera davanti con Tio Purcerra. Mentre Leclerc due secondi di vantaggio nei confronti di Dan Tictum e teoricamente ora con gomma nuova dovremo pian piano riuscire a riguadagnare. Andiamo in risparmio e vediamo se le gomme si raffreddano in modalità risparmio. E anzi andiamo anche in sorpasso, risparmio e sorpasso per entrambi i nostri piloti visto che abbiamo carburante da dover bruciare. Effettuati tutti i pit stop davanti a noi e ci troviamo in una condizione buonissima. Purcerra ha appena passato Tictum che è una gomma gialla molto usurata e si è messo davanti... C'è una Ferrari doppiata? Mi sembra sì, Max Verstappen è doppiato a 67 secondi da Leclerc. Si ferma a Tictum. In questo momento Charles Leclerc può gestire in risparmio. Le gomme bianche sono splendide, le migliori per la gara perché si riscaldano quel tanto che basta e puoi giocare sul risparmio per poter arrivare tranquillamente in fondo. Noi arriveremo tranquillamente in fondo con questa gomma, dobbiamo solo gestire un po' di più il carburante. Andiamo in modalità motore media e poi valuteremo anche se andare in bassa. Charles Leclerc in questo momento ha doppiato anche Clement Novalac. Charles Leclerc in questo momento ha doppiato tutti, compreso Clement Novalac che si trova in terza posizione. L'unico a pari giri con il capo classifica è il compagno di squadra Tio Purcer. Stiamo dominando questa gara e abbiamo doppiato ora Deguerus, addirittura arriva Leclerc a sdoppiarsi. Arthur Leclerc che si è preso la terza posizione nei confronti di Novalac ma ora dovrà farsi doppiare nuovamente. Stiamo un po' perdendo tempo forse perché i piloti tipo Arthur Leclerc si vogliono sdoppiare. Leclerc ha preso un po' di vantaggio con la gomma gialla. Ma noi dobbiamo gestire un vantaggio di oltre un giro, praticamente di circa un giro nei confronti di tutti gli altri. Quindi siamo nettamente avvantaggiati. Con Tio Purcer che grazie a questo gioco può continuare a guadagnare e andare anche lui a doppiare praticamente tutti. Anche se è impegnato nel doppiaggio del fondo della griglia. Stiamo ampiamente dominando questa gara. Dal punto di vista della strategia e dal punto di vista del passo finalmente possiamo goderci appieno il GP di Indianapolis. Charles Leclerc sta andando ad iniziare il suo cinquantesimo giro, il che vuol dire tre giri alla fine. Andiamo tra pochissimo all'inizio del cinquantunesimo a spingere al massimo per provare a prenderci anche il giro veloce. Si è fatto sdoppiare dalla maggior parte dei piloti che erano davanti a lui. Si è sdoppiato Tictum per esempio in quinta posizione. Sta arrivando anche Lawson. Ma ora andiamo a spingere al massimo con entrambi i nostri piloti. Tentiamo anche il giro veloce visto che l'1-2 a meno di clamorosi ribaltoni ce lo siamo praticamente assicurato. Andiamo a velocizzare. Inizia il giro con spinta massima sia sulle gomme che sul carburante per Charles Leclerc. Vediamo se riesce a fare il giro veloce però purtroppo è bianco. Non è il miglior giro della sua gara. Saremmo forse dovuti rientrare per montare una gomma rossa e provare veramente il giro più veloce con Charles Leclerc che chiude il giro e inizia l'ultimo giro della sua gara. Mentre Purcell sta migliorando il suo miglior giro purtroppo non ce la facciamo a prendere il giro veloce. Avremmo dovuto valutare di fermarci e montare una gomma rossa ma non potevamo comunque rischiare. Charles Leclerc rotto, sfatato il tabù di Indianapolis, vince. Prima posizione per Charles Leclerc davanti al suo compagno di squadra Theo Purcell. La one in one racing team allunga ancora in classifica costruttori e anche in classifica piloti. Andiamo a consolidare le nostre posizioni con Novalak che attenzione ha terminato il carburante. Verrà passato da Arthur Leclerc. Si è assicurato Novalak la quarta posizione perché dietro erano tutti doppiati ma purtroppo ha perso il podio a favore della pilota. della Red Bull ma a noi non interessa. Prima seconda posizione 1-2 per la one in one racing team. Controlli da parte della FIA. Per noi rischio di infrazione basso e purtroppo Charles Leclerc. Tante gare in cui l'abbiamo passata liscia. Charles Leclerc viene declassato. La vittoria passa a Theo Purcell davanti ad Arthur Leclerc e Charles Leclerc. Quindi terza posizione per Charles. Seconda vittoria consecutiva per Theo Purcell. Perde punti in vetta Charles Leclerc. Allunghiamo comunque. Non è un grosso problema. Peccato perché non è più un 1-2 per la one in one racing team ma è un 1-3. Theo Purcell seconda vittoria consecutiva. La classifica piloti dice Charles Leclerc. con 74 punti di vantaggio nei confronti del compagno di squadra Theo e 87 di vantaggio nei confronti di Arthur Leclerc. Classifica costruttori. Comunque allunghiamo 914 punti per la one in one racing team. 761 per Ferrari. 744 per Red Bull. Questo è il resoconto della scuderia. Comunque morale è sempre tutto al 100%. 464.000 euro gli introiti. Da questo fine settimana proseguiamo nel nostro calendario per andare alla nostra schermata della dashboard. Primo compito come sempre. Meccanici e P-Stop. Una sola candidatura perché c'eravamo dimenticati semplicemente di eliminare le offerte dal scorso GP. Rifiutiamo tutti e modifichiamo la squadra per il prossimo Gran Premio. Questa sarà la nostra squadra Meccanici per il prossimo Gran Premio. Il GP di Zantford tra 10 giorni. Abbiamo come sempre tutti i messaggi del fine settimana. Rifiutiamo l'intervista. Componente vietato. Quindi Charles Leclerc si prende una terza dietro a Thio Porciera e al fratello Arthur. Mentre per quanto riguarda abbiamo un dilemma. Per quanto riguarda la riparazione dei componenti è completata. No non ancora. Messaggio di posto abbiamo un dilemma. Servizio. Alas. Stiamo preparando un servizio sulla Mercedes e sui metodi di lavoro poco ortodossi. Abbiamo raccolto le testimonianze dei suoi meccanici. I quali dicono che la scuderia è obberata di lavoro a corto di personale con una montagna di debiti. Sei disponibile a farci intervistare i tuoi meccanici per dare ai nostri lettori un punto di riferimento? Potrebbero avere qualcosa da ridire sui tuoi piloti ma intanto farà abbassare la cresta a quelli della Mercedes. Se scegliessimo certo sono d'accordo rapporti con entrambi i meccanici meno 5 ma commerciabilità di Mercedes meno 5 sinceramente non ci interessa. I panni sporchi si lavano in famiglia quindi no proseguiamo nel nostro calendario. Riparazione della vettura completata ci concentriamo ovviamente su. Dobbiamo per forza andare a sviluppare un nuovo pacchetto freni? Però andiamo a vedere stiamo già sviluppando un pacchetto freni ora non ricordo si pacchetto freni tra sei giorni quindi arriva prima di Zandford. Non dobbiamo concentrarci su altri pacchetti freni su un miglioramento di altri componenti. Ci concentriamo sulla prestazione del motore che è arrivato prima di questa gara. Quindi proseguiamo nel nostro calendario e abbiamo il voto che avevamo proposto nello scorso episodio. Possibilità di sviluppare gli elettroni anteriori e vado a spendere tutti i voti in mio possesso per la prossima stagione anche se non andremo a correrla. Jean Todd è contrario e purtroppo proposta rifiutata. Eravamo pari sei voti a sei voti ma Jean Todd ci è andato contro quindi proposta rifiutata. Si va verso una formula 1 sempre più universale. Proseguiamo nel nostro calendario terminato il lavoro sull'affidabilità quindi andiamo a migliorare i nostri componenti tutti gli altri componenti che andiamo ad utilizzare soprattutto queste sospensioni per farle arrivare al 100%. A questo punto questo alettone ugualmente per farlo arrivare al 100% e poi a brevissimo arriverà anche un nuovo componente il nuovo pacchetto freni. Eccolo qui no non ancora stabilimento inattivo che era il messaggio di due giorni fa siamo al fine settimana della formula 2 e della formula 3 da tanto che non la seguiamo ma non ci interessa. Quindi proseguiamo e andiamo alla progettazione dei freni terminata. Messaggio di posta andiamo a controllare la vettura a montare il componente e a sviluppare un nuovo componente. Considerando i futuri gran premi non voglio sviluppare un elettrone posteriore visto che siamo ancora al primo posto direi di andare a sviluppare un altro pacchetto freni perché non ci sono dei gran premi in cui il motore fondamentale potremmo arrivare a suzuka però ci potrebbe servire un nuovo pacchetto freni prima di costruire un nuovo motore quindi andiamo a migliorare il pacchetto freni. Questo pacchetto freni sarà molto buono già migliore degli attuali freni e in più con un potenziale migliore arriverà in 16 giorni quindi teoricamente poco prima del gran premio di Monza con l'affidabilità che sarà da migliorare costruiamo questo componente solo 131.000 euro la spesa e proseguiamo nel nostro calendario. E ci siamo siamo alla fine settimana di Zandford ragazzi se vi è piaciuto questo episodio lasciate un bel mi piace per supportare la 1&1 Racing Team ricordatevi un bel commento qui sotto con il pronostico riguardante il GP di Zandford vi rifaccio vedere la schermata e ovviamente se già non lo siete iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Io vi ringrazio per la visione e l'appuntamento e al prossimo episodio. Ciao Willers!